Volevo parlare di questa volontà che è la mia di parlare con Paolo Gentiloni e Angela Merkel, di questo argomento importante, una vera rifondazione europea, la quale credo pienamente, vediamo tutto quello che è stato fatto dall'Unione Europea negli ultimi tempi, vediamo anche quali sono le carenze che impongono all'Unione e all'Eurozona di dare un impulso politico e solo gli stati fondatori e quelli che vorranno associarvisi potranno fare e questo è il lavoro che vogliamo fare nei prossimi mesi insieme in stretta collaborazione per rivitalizzare questo progetto, ma anche per trovare forme democratico per attuarlo, perché credo che sia importante ridare una forma al progetto europeo e di ridargli un'intelligibilità per tutti i nostri concittadini, altrimenti rischiamo di perdere qualcosa e lasceremo ampio spazio a coloro che criticano l'Europa, quindi lavoreremo insieme